Anche Biella ha ricordato il 74esimo anniversario della Fondazione della Festa della Repubblica. Lo ha celebrato, come richiesto dal periodo nel quale viviamo, con una cerimonia limitata nel Palazzo della Prefettura. Presenti le autorità civile e militari accolti dalla prefetta Fabrizia Triolo. I cittadini invece hanno potuto seguire da casa l'intervento degli ospiti attraverso le riprese di una televisione locale. Gli intervenuti hanno sottolineato la storia ed i valori di unità della festa. Sempre in mattinata i sindaci della provincia si sono riuniti nel piazzale dell'ospedale per ricordare la giornata. Da Biella è tutto, grazie dell'attenzione, arrivederci.